che cerca dentro una palla per Filippi che si gira sul perno, cerca l'appoggio tirare un po' più lentamente tanto la palla fuori per Filippi che prende segna la tre che resta lì per il blocco Ciavarella chiude il paleggio fuori per Filippi che prende un altro tiro da tre punti forse un po' di contropiede aiuterebbe l'attacco del San Martino di Luperi intanto bravissima palla si torna dall'altra parte con Ciavarella che trova bene Marcella Filippi si aspettano i blocchi sotto canestro per l'uscita di Anderson non va la palla lì, penetra allora allora Fasa che scarica per Filippi Luzioni vicino a canestro in questo caso usa tra l'altro pur essendo piccola usa bene il piede per migliore realizzatrice nella prima gara di campionato con 12 punti e 8 rimbalzi subito la palla per il catch and shoot da tre punti di Marcella Filippi e la palla che torna nelle mani di San Martino un minuto e 37 secondi alla fine backdoor Filippi per Anderson in backdoor e altri due punti fuori per Fietta la finta il penetra e scarica per Filippi che si butta dentro l'appoggio di mano sinistra in corsa Anderson che ribalta al lato per Filippi che ci pensa un attimo poi prende il tiro da tre punti palla per sul ciute che da Filippi Filippi che ci pensa un attimo poi prende il tiro da tre punti consegnato nell'attacco di San Martino poi il blocco di sul ciute fuori il penetra e scarica per il tiro da tre punti di Marcella adesso la difesa uomo dopo il time out da parte di Brani per queste ultime azioni torna fuori la palla per il pick and pop di Filippi tanto l'attacco di San Martino molto bene la palla bellissima per Pasa fuori ancora i blocchi per l'uscita il catch and shoot da tre punti di Filippi sotto Filippi lo scarico ancora anzi adesso per la Filippi lo scarico ancora per Filippi guarda il canestro ci trova sola praticamente sul 57% dal campo qui la palla torna fuori per il tiro da tre punti di Filippi la palla è nelle mani di Fietta servita nuovamente da Filippi che penetra contro Herzler sul shoot attaccata dalla mattina lo scarico per Filippi che sbaglia la prima ma non la seconda diciamo che sia Melikoza che Herzler non nei primi due quarti non sono sotto la palla intanto per Fietta che va da Henderson in angolo la palla per Filippi che prende un altro tiro da tre punti di vantaggio contro il suolo gli spalli a canestro attende il taglio della compagna poi però scarica per Filippi arresto e tiro è nelle sue corde assolutamente con San Martino che fa il bel e cattivo tempo in difesa ora sta sticcolando bene in atta ancora una volta sul limite dei 24 tabella amica di Schio che però comunque è riuscito già a costruirsi un vantaggio di 20 lunghezze che adesso vengono ridote intercetta la palla Pasa Ciavarella scarica per Filippi la tripla di Filippi è riuscito a trovare la giusta coordinazione per mettere a segno i due punti Fietta dall'angolo trova la tripla da parte di Gias continua a lavorare in alto basso da parte di Lupe che riesce a trovare la tripla Pasa dentro questa volta per Filippi che sbaglia l'appoggio di tabellone ancora però sul terzo tentativo Filippi realizza